Gentili telespettatori, buona giornata. Colpo di scena. Renzi e Calenda aiutano Giorgia Meloni e votano a favore di La Russa come presidente del Senato. C'è qualcuno che dice che Calenda e Renzi siano più a destra di Giorgia Meloni. Forse hanno anche ragione. La Russa viene eletto con 116 voti, 17 voti in più. Tutti quelli di Forza Italia, tranne Berlusconi, votano per altri. Cioè, scheda bianca, non hanno votato per La Russa. Quindi il gruppo di senatori di Forza Italia, vergognosamente, vota contro il governo che dovrebbe nascere. Ecco la vendetta di Berlusconi su l'accantonamento di Licia, l'ex infermiera. Berlusconi è sempre lo stesso. Non crediate che sia un'altra persona, è sempre quello delle leggi ad personam, è sempre lui, lui, ricordiamocelo, è sempre lui. Così Ignazio La Russa è stato eletto con 116 voti, uno in più della maggioranza dichiarata. Ma 16 senatori di Forza Italia non l'hanno votato. Da dove arrivano dunque quei voti? Renzi dice io non c'entro, lo avrei detto. Il PD dice è un grave soccorso da parte delle opposizioni. Bruno Vespa rimane esterefatto, dice fai conti su un blocchetto, non ho mai visto una roba del genere. Sottrai e moltiplica, i conti non tornano. La Russa è eletto con 116 voti, uno in più della maggioranza dichiarata. 16 senatori di Forza Italia non lo votano, ma da dove arrivano allora quei 16 voti in più? Lega più fratelli d'Italia hanno 97 senatori. Immaginando, ma non è affatto detto, che Berlusconi, Elisabetta Casellati, gli unici azzurri che hanno messo la scheda nell'urna, abbiano votato la russa, si arriva a 99. E allora? Ci sono 17 voti in più. Dice ma come fate a sapere che quelli di Forza Italia non hanno votato, cioè non sono andati a votare? Questo è gravissimo. Questo è contro Giorgia Meloni, è contro Fratelli d'Italia, è contro la decisione di non discartare l'ex infermiera, Licia. E allora si guarda al terzo polo. Calenda più Renzi hanno 9 senatori. Ne mancano 10, comunque. E in più Renzi, uscendo dall'aula, dichiara deciso, io non centro con quei voti in più. Se faccio una cosa la rivendico. Strano, no? Gallo che canta, o meglio. Vabbè, tornando da capo. Cateno De Luca, le autonomie, i senatori a vita, hanno votato tutti per la russa. Comunque i conti non tornerebbero, perché sono 5 o 6 voti. E allora non resta che andare a vedere altrove. Dove? Nel Movimento 5 Stelle? Nel PD? Bah. Mentre la maggioranza è partita nel modo peggiore, una parte dell'opposizione ha fornito un soccorso decisivo alle elezioni di la russa a presidente del Senato. Un comportamento grave e irresponsabile che deve essere denunciato con la massima forza, scrive su Twitter il senatore e il coordinatore della segreteria PD, Marco Meloni. Che non c'entra niente, non è un parente di Giorgia Meloni. A intervenire nel PD è anche il segretario Enrico Letta che dice irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall'esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza. Sta parlando di Renzi e Calenda in maggioranza, una sorta di appoggio esterno al governo. Mentre per Dario Franceschini i senatori che dall'opposizione hanno votato per la russa sono persone che non sanno bene che cos'è la politica. Non lo sanno bene. Oggi avevamo l'occasione di mettere in difficoltà la maggioranza. Ignazio la russa comincia la sua seduta ringraziando soprattutto quelli che mi hanno votato pur essendo della maggioranza. Forza Italia ha di che riflettere. Insomma, diciamo che il governo sta partendo nel peggiore dei modi possibile, in un paese che è ridotto nel modo peggiore possibile. Quindi un paese allo sfascio con una maggioranza che non funziona, una maggioranza dove il governo non è stato ancora nominato e ha già dei problemi gravissimi. Gravissimi. Beh, il caimano, il caimano fa il caimano. Il colpo di coda. Mai sottovalutare Berluscao Meravigliao. Quella ne sa una più degli altri. Eh, sì, eh. Insomma, pestare i piedi a Silviuccio che non gli si mette licia come ministro, eh, non lo accetta il cavaliere, il finto alleato di Giorgia Meloni. A capo ormai di un partitello al crepuscolo, un partito crepuscolare, alla fine, in via di uscita, è arrivato al conto, il conto grazie, quel partitello di cui il cavaliere difende a spada tratta. Un uomo che non è abituato a sentirsi dire di no. Gli hanno detto no a Alicia, l'ex infermiera, messa a fare un ministero qualunque, ma è importante. La vendetta è servita. Ma questo è solo l'inizio, attenzione, è solo l'inizio. Grazie a tutti per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci. Ricordatevi che c'è Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e fai da te. Poi c'è anche In Cucina con Carla, che è l'altro video, l'altro canale dove ci sono video di cucina, canale aperto da pochissimo, 650 iscritti, un poco alla volta, con il vostro aiuto, si sta arrivando a quella fatidica cifra di mille che servono. Grazie a tutti e ci vediamo presto in quest'altra giornata tremenda di politica. Grazie a tutti.